Mi sembra tutto ok, benissimo, quindi ribadiamo, dollaro yen in posizione short alla venuta perforazione di area 101.90, punta 100.80, quindi una figura a ribasso è l'aspettativa che possiamo attenderci. Per quanto riguarda la domanda di Domenico, aspettiamo un ritest per lo short, sì, oggettivamente Domenico vediamo un po' dove finisce questo rimbalzino e quanto più vicini riusciamo a vendere alla vecchia prenderà in disupporto, quindi il cosiddetto pullback, tanto meglio sarà. Se non dovessimo riuscire a vendere in questa area, purtroppo ci toccherà farlo sulla forza, ossia allora quando il minimo di giornata 101.60 venisse violato. Questa è un po' la situazione allo stato attuale. La cosa importante, al di là dell'aspetto squisitamente operativo, è constatare che il dollaro si sta nuovamente indebolendo e lo fa, come avete visto, anche contro euro. Diamo un'occhiata quindi al Bund. Pasquale dice, visto che siamo all'ordine di euro, non è meglio vendere la sterlina. In che senso Pasquale, scusami? Come forma di edging o di protezione? Se mi spieghi meglio il tuo quesito. La vedi debole? Questo prescinde dalla posizione long di euro, è chiaramente una posizione long direi ben determinata. Adesso esamineremo anche la sterlina, se ci darà, come tu dici, chiaramente una view non particolarmente positiva, perché no? Potremmo anche decidere di liquidare, di metterci a ripasso, sempre considerando che però in questo momento stiamo vivendo una fase debole di dollaro, quindi andare a vendere sterlina dollaro vuol dire sostanzialmente mettersi in spread e non è così che abbiamo gemmato l'operazione. Vediamo un po', arriviamoci per passi successivi. Come vedete in H4 non abbiamo indicazioni particolari sul dollaro yen, questa è la situazione H1. quanto più possibile rimbalza, se rimbalza, tanto più facilita il nostro ingresso short. In maniera in correlazione negativa, perfettamente il Bund, stesso momento, stessa situazione tecnica, capovolta, rompe il rialzo, e a questo punto credo che il Bund voglia andarsi a rivedere area 148 nei giorni a venire. Quindi questo è un segnale, al prescindere dall'operatività eventuale, potentemente bullish per il mercato dei beni rifugio, e come tale andrà interpretato. Quindi allo stato attuale il Bund al limite si compra. In ogni caso è importante, come aspetto intermarket, il fatto che il Bund abbia girato nuovamente a rialzo, lo dicevamo da giorni, che era sospettosamente solido, e in effetti a quanto pare aspettava solo il dia libera, come potete vedere, dal mercato nordamericano, ancora una volta. Questa è la situazione tecnica del DAX, tutti i supporti dinamici che abbiamo tracciato sono stati rotti in rapida successione, rimane come struttura portante, direi, sempre la vecchia, quindi un DAX inserito in una grande fase ascendente, ha rotto finalmente a ribasso, ha effettuato, ricordate, ne abbiamo parlato spesso, due precisi pullback ribassisti, quindi il primo e il secondo, e dal punto di vista pratico, questo è una lettura chiaramente molto short sul mercato stesso. Il DAX è quindi atteso a rivedere area 9820 a breve, e qualora dovesse riuscire a superarla, potrebbe e dovrebbe continuare a correggere, verso area 9600 punti, dove a noi piacerebbe piazzare il target di questa operazione. Per approssimazione, lo andiamo già a mettere in area 9610, 615, il che corrisponderebbe a un gain di 308 euro, non ci dispiacerebbe, vediamo un po' se riusciamo a centrare questo target, che ricordo è strutturato ipotizzando una continuazione del DAX all'interno di queste ampie fasi di accumulo e di distribuzione, quindi andare a fare touch, chiaramente, della base inferiore di questo canale rialzista. Tutto qua. Quindi, Mauro dice, non si era parlato di testa e spalla sul DAX, io, Mauro, non so neanche che cosa sia un testa e spalla, sono figure tecniche che non ho mai analizzato, quindi, personalmente, quello che conosco e quello di cui mi fido è quello che vi faccio vedere ogni giorno. Per quanto mi riguarda, la figura del testa e spalla è qualcosa su cui non intendo approfondire più di tanto, in quanto la ritengo abbastanza difficile da individuare, quindi non caratterizzata da una partecipazione di molti operatori all'eventuale struttura che genera. Su questo, però, mi sono già espresso diverse volte. Quindi, dollaro-yen, ancora, risk-off, bund, risk-off, DAX, risk-off, manca l'appello all'euro-dollaro che, infatti, va a violare quella resistenza di breve di cui avevamo parlato nei giorni passati, si era fermato ieri, già nella prima gambetta rialzista, proprio in prossimità di questa resistenza, abbiamo approfittato del taccio, comunque, dell'avvicinamento al supporto dinamico di breve per rientrare in posizione, stamattina abbiamo ricomprato euro-dollaro sulla permanenza al di sopra della Zero Line, per il momento sembra essere stata una buona intuizione. Chiaramente dovremo verificare col passare delle ore e dei giorni. Target immediato, quindi vado a zoomare sull'area, eccola qui la grande figura di inversione rialzista dell'euro, come target stimiamo ancora una volta l'area 38.2 di Fibonacci, quindi l'area 1.38.25, dove ci accontenteremo, tra virgolette, di portare a casa questa seconda operazione speculativa. Mi chiede Giovanni, 9.600 punti del DAX, che impatto ha sul Fuzzi Nib? Ci arrivo Giovanni, è il prossimo grafico, un po' di pazienza, in proiezione, comunque, quindi sull'euro-dollaro tutto chiaro, spero, dal punto di vista operativo, vi ripeto, stiamo lavorando sul breakout di questa vecchia resistenza dinamica, si è costruito un bel supporto dinamico di medio-breve, abbiamo ricomprato sul taccio di successo del supporto, abbiamo adesso rotto anche la prima resistenza che si frapponeva tra l'euro e il rimbalzo, prima tappa 1.36.25, seconda tappa 1.37.40, questo è quello che stiamo cercando di tradare sull'euro-dollaro, su cui, come vedete, per il momento siamo indiscreto utile. Arriviamo quindi all'Ital 40, la domanda di Giovanni è molto interessante, ossia chiede, fatte le dovute proporzioni, dove arriva Milano, se il DAX va a fare 9.6, come ho detto poc'anzi. Secondo me Milano, eccola qui, il grafico di Milano, che poi approfondiremo con l'altra piattaforma, deve completare la sua correzione verso quest'area, area 20.800, 20.850, quindi la mia risposta è che se il DAX corregge, come detto, Milano la trovi in quell'area lì, ma approfondiremo poi con la piattaforma successiva, anche perché c'è da rettificare un livello di supporto su questa, che è diventato questo qui, scusate un attimo, una piccola correzione del grafico, vado a zoomare sulla sezione, parliamo in questo caso del future, e non del cash, quindi come ti confermo, area 28, 28.50, Giovanni, sarebbe parallelamente il target che il mercato dovrebbe raggiungere qualora ci fosse la prosecuzione dello short selling sul DAX di Francoforte. C'è da dire che c'è anche un pseudo supporto intermedio, rappresentato da questa vecchia area di resistenza, sempre sul Fuzimib trimestrale, è una vecchia area di resistenza che oggi funge da supporto, quindi non escluderei un rapido target in area 21.000, una piccola reazione, e poi il raggiungimento del target che vi ho appena evidenziato. In ogni caso, la cosa più confortante, più piacevole per noi, è che il metodo uptrend funziona, bella divergenza short in Milano, è venuta giù. Tutto qua. Diamo un'occhiata allo standard in Poole 500, da cui stamattina prudentemente ho chiuso sul raggiungimento del primo supporto dinamico, è stata una chiusura che rifarei 100.000 volte nella vita, quindi non me ne pento, visto che il mercato non ci aveva dato subito ragione su questo short selling, per ora l'abbiamo portata a casa. Il prossimo eventuale ingresso short sullo standard in Poole è subordinato alla rottura di questo supporto dinamico, parliamo di area 1930, se l'America rompe questo supporto ragazzi bisogna rompere gli indugi e vendere un po' a mani bassi, anche in maniera tra virgolette coraggiosa. Per il momento consiglio di avere un atteggiamento ancora prudente, visto che questa è solo la prima eventuale ondata risk off, ma abbiamo bisogno di ulteriori conferme. Questo è l'Eurostock 50, su cui fra 15 minuti entriamo short, andiamo ad appesantire un po' la nostra posizione di bassista sul mercato azionario, vi ricordate abbiamo già meccanizzato un super trend TLGO 5.0 in forma basica, come potete notare questo è un grafico H4, fra un po' viene rotto a ribasso sull'Eurostock 50 questo supporto dinamico e la violazione di questo supporto dinamico chiama short fino ad area 3150. Siamo a 3250 come valore quota, cerchiamo di catturare un centinaio di punti a ribasso sullo strumento. Mi chiede Stefano dove potrebbe entrare long sull'euro-dollaro? Al prezzo attuale Stefano direi, perché se ci fai caso, se la nostra valutazione è corretta, adesso ti sta ritornando un po' indietro, quindi ti si sta avvicinando, se vogliamo, alla trendline appena rotta che fa da acceleratore potenzialmente al rialzo, quindi in un trading range tra qui e i prossimi 10 tick, se l'operazione è giusta, sarebbe chiaramente il caso di provare a inserirsi anche in corsa. Quindi assolutamente ai prezzi attuali. Sei già fortunato, se hai davvero questa intenzione, perché rispetto alla prima fase di accelerazione, come vedi, il mercato ha respirato un po' in basso. L'euro-stock l'abbiamo visto, fra 15 minuti dovrebbe entrare lo short, lo vedremo in piattaforma. Questo è il Nikkei, guardate con che precisione si è venuto ad appoggiare sul primo supporto dinamico che abbiamo tracciato da ieri, il secondo è più in basso, come avevamo detto, anche qui situazione un po' interlocutoria, la voglia di scendere c'è, però i mercati si stanno dimostrando, come sempre, molto ma molto soli. Anche Domenico, a quanto pare, ha intenzione di seguire Stefano e posizionarsi long sull'euro-dollaro, e in bocca al lupo, noi siamo già dentro e portiamo avanti tutti insieme l'operazione. Un'occhiata doverosa, merita anche il gold, un gold che in mattinata aveva iniziato, giustamente direi, una fase correttiva, peraltro fase correttiva giustificata, come vedete, da una logica, logica divergenziale, il secondo apice è sotto 150, quindi non è pulitissima, però la logica divergenziale c'era tutta, stamattina in una fase ancora favorevole all'azionario, c'era un bel rimbalzo su Piazza Affari e Company, l'oro chiaramente ha iniziato a scivolare verso il basso, adesso che si ripresenta chiaramente lo scenario di borsa in correzione, l'oro ritorna velocemente sui suoi passi e intraprende una breve ma interessante strada di recupero, non siamo ancora arrivati su punti di impatto tipo questo supporto che ci permettano di entrare con un rapporto rischio-rendimento ideale, ragion per cui la nostra rimane ancora una volta un'osservazione abbastanza passiva e legata un po' al contesto intermarket. C'è da notare peraltro sull'oro il che induce anche un po' alla prudenza che se andiamo anche a tracciare un supporto di una resistenza dinamica di questo tipo noterete che in questo momento l'oro sta combattendo con un punto di come dire di evoluzione particolarmente importante, ragion per cui davvero la situazione in questo momento è davvero determinante. E ora posso solo constatare questo allungo poderoso dopo la divulgazione dei dati macroamericani, un allungo abbastanza interessante, quasi 8 punti di recupero che sull'oro equivalgono a più dello 0,50%, vediamo un po' nelle prossime ore, mi appare comunque leggermente tirato. Situazione molto simile anche sull'argento, anche l'argento stamattina scivolava verso il basso, come potete notare quando i dati sono stati divulgati ha recuperato la zero line del CCI, era andata al di sotto della stessa, riportata saldamente al di sopra dell'area zero del CCI e in questo momento sta riandando ad attaccare l'area 21, 21,30, 21,15 scusatemi, oltre il quale per l'argento si apre nuovamente uno scenario potentemente, davvero potentemente rialzista. Siccome sull'argento abbiamo una visione di lungo, vi ricordate il grafico weekly che adesso vi sto facendo vedere, andiamo a sfruttare la funzione go up con un grafico H4, quindi nella fattispecie andiamo a programmare un eventuale intervento long sull'argento, portiamo il nostro trendline go, eccolo qui, come valore le diamo numero magico alternativo, ecco queste sono le nuove funzioni che abbiamo introdotto peraltro dopo i vostri suggerimenti, eccola qui, il trend now true l'abbiamo spostata in alto perché è un'informazione importante su qualunque expert, sapere subito se vuoi andare in trend now true o meno, andiamo in go active quindi useremo una trendline quindi true, la tolleranza dei tick con il famoso chiaramente livello di tolleranza per considerare una trendline effettivamente breccata espresso ovviamente in tick il touch se volete attivarlo quindi se volete comprare sui touch del super trend è stato attivato anche questo numero delle entrate una in questo caso lavoriamo con un super trend 5.0 che è già long lot size trattandosi dell'argento 0.05 dando l'ok non succede assolutamente nulla innanzitutto perché ho duplicato un expert neanche a farla sposta vedete avevo usato un numero magico già esistente e l'expert mi ha avvisato a questo punto vado a chiamare questa trendline go up non so se ci avete fatto caso ma il grafico si è colorato da solo di giallo eccola qua vedete questa seconda trendline violacea magenta tratteggiata questa è la tolleranza vuol dire che io ho previsto che il super trend che l'expert vada long già alla rottura di questa ma se non mi va al di sopra della seconda quindi una tolleranza minima che sta a voi puoi andare a settare l'operazione non entrerà quindi se ho un movimento di questo tipo un'entrata e poi ritorno indietro tanti piccoli farsi breakout purché non superino la tolleranza che ho impostato la trendline verrà mantenuta come ancora in essere tutto qua quindi se dovesse arrivare volatilità sull'argento ci mettiamo long viceversa stiamo tranquilli come stiamo adesso infine il petrolio un petrolio particolarmente difficile da tradare negli ultimi giorni perché sta combattendo con quest'area 105 sembrerebbe avere davvero una gran voglia di salire a rialzo scusate un attimo quindi dal punto di vista pratico situazione molto particolare sul petrolio il petrolio che come vedete in area 105 continua a mantenere Pasquale mi chiede se è già disponibile il Go 1.1 no Piercarlo allora due domande bene interrompo subito scusate ragazzi ritorno Piercarlo avevamo constatato se ricordi bene durante l'ultimo evento qui a Ugiate a cui si è stato presente che aspettare la chiusura candela voleva diventare diventava troppo come dire prudente come approccio si rischiava soprattutto sui grafici a quattro ore con cui si piace lavorare sostanzialmente esagerare in prudenza quindi abbiamo trasformato la perforazione in una perforazione in real time poiché l'abbiamo trasformata in real time abbiamo però voluto associarli un margine di tolleranza quindi non mi andare long se mi divuchi di un tick almeno X tick io in questo caso ho impostato i 100 che poi sono 10 sull'argento e quindi tecnicamente il vero breakout in tempo reale ripeto avverrà in caso di perforazione della candela sto usando per primo questo expert oggi da oggi pomeriggio mi sembra che tutto funzioni bene e anche a vostra disposizione cosa è importante abbiamo introdotto anche il touch delle 3D del super trend questo è un super trend che adesso mettiamo nel 5.0 la funzione touch permette anche in questo caso vi faccio un esempio pratico guardate qua eccolo qua vedete qui il super trend oh là mi è scappato scusate un attimo vi faccio vedere cos'è la funzione touch mi basta un segnale qualunque eccolo qua guardate qui il super trend si è messo a ribasso qui vedete il cambio di colore diventato rosso short questo è un touch allora quando il super trend ritorna sui suoi passi rischia di superare il super trend di invertire al rialzo non lo fa e ritorna giù questa è la funzione touch peraltro è l'ingresso caratterizzato dal miglior rapporto rischio rendimento su qualsivoglia super trend vi faccio un esempio anche visivo pratico anche qui il super trend si è messo long e poi ritornato indietro qui ha fatto un touch vedete ha bucato addirittura la linea verde ma non l'ha non ha confermato in chiusura appena toccavate la linea verde noi vi facevamo comprare se avevate attivato il touch e tutto questo era guadagno succede molto spesso che il super trend ritorni sui suoi passi e questo rende assolutamente opportuna questa ulteriore modifica che peraltro faceva già parte di vecchi pacchetti di software che avevamo abbiamo semplicemente dovuto riprogrammare il software stesso affinché contemplasse questo tipo di aspetto ok chiaro per tutti come funziona il touch ovviamente poi man mano che lo vedrete lavorare nei prossimi giorni diventerete sempre più pratici perché sarà una tecnica che userò molto per raddoppiare le posizioni perché la cosa bella del touch è raddoppiare un'esposizione su un titolo col miglior rapporto rischio rendimento bene ritorniamo al petrolio quindi Pasquale Piercarlo Stefano chiunque sia abbonato o si ricordi Anton Giulio da oggi pomeriggio o più tardi domani mattina riceverà il via libera da me per la distribuzione del nuovo expert peraltro prima di distribuirlo vogliamo correggere il pdf esplicativo e aggiungere appunto la funzione touch e la funzione go up e go down non più sul close ma sul real time con le tolleranze i ragazzi ci stanno lavorando mentre io sono qui a fare il webinar presumo ripeto che entro domani sarà assolutamente a vostra disposizione la caratteristica peraltro del nuovo expert è che finalmente colora di giallo automaticamente il grafico implementazioni che porteremo su tutti gli expert di uptrend pian pianino stiamo facendo un lavoro riescate siamo ancora qua quindi non vi libererete di noi facilmente sul petrolio vi dicevo questa 105 sarebbe una perfetta area tecnica per fare trading vedete continua a sbattere e rimbalzare lo farà probabilmente un'altra volta è evidente che il petrolio avrebbe una gran voglia di andare verso area 110 però ogni volta l'azionario cambia humor e si porta dietro il petrolio almeno questo è quello che mi sembra che stia succedendo comunque fino a quando rimane sopra area 105 sulla debolezza ti sembra sempre da comprare infine il VIX che prova una timida reazione ma niente di particolare comunque non sta più scendendo anche questo è un segnale di potenziale reversal per l'azionario e come tale lo assumiamo passiamo quindi al settore valutario perché poi abbiamo anche tanti titoli azionari da guardare quindi vediamo di dare anche un'acceleratina allora dollaro franco svizzero guardate il riscoffo che sta arrivando ragazzi vi ricordate stamattina chi ha seguito anche il webinar condotto da Antonio Giulio e Maurizio io ho fatto una brevissima parizione e ho parlato occhio guardate il dollaro che cosa combina guardate qui contro franco svizzero che cosa sta combinando un lavoro certosino è vero guardate lì cosa sta combinando franco svizzero contro dollaro quindi in caso di breakout di questo supporto dinamico bisogna andare corti di dollari e compratori di franco svizzero andiamo a montare anche qui il super trendline go è già in posizione short se ci fate caso quindi andiamo già only short non vogliamo fare il long eccolo qua anche qui mettiamo il solito numero magico casuale ragazzi questo è trading time facciamo trading quindi iniziamo un po' ad abbandonare della ritrosia ad essere più operativi trade now true go active true la tolleranza in pip la metto a 100 che equivale a 10 pip ora la vedrete disegnata il touch per il momento non lo attivo non mi sembra un parametro eccezionale quindi non voglio anzi no lo attiviamo col 5.0 scusatemi lot size del touch potete anche differenziare io vado a raddoppiare eventualmente la posizione con 1.01 multiplier del super trend 5.0 lot size del multiplier 0.1 quindi diamo l'ok non succede nulla perché abbiamo detto che vogliamo lavorare con le trend line vedete vado a rettificare questa trend line per identificare il doppio minimo la chiamo go down aspettiamo che la identifichi deve arrivare un tick in piattaforma eccola qua vedete trend line diventata margenta quindi la riconosciuta peraltro ve l'ho anche scritto che è una go down qui e soprattutto vi ho aggiunto questa bella invenzione che ci siamo voluti dare questo regalo che ci siamo fatti la trend line tratteggiata che indica la tolleranza minima per poter considerare effettiva la perforazione è ovvio che se invece di metterla a 10 ve lo faccio vedere l'avessi messa quindi 100 in questo caso sapete che abbiamo 5 decimali in piattaforma l'avessi messa a 200 quindi 20 più 20 la trend line si sarebbe spostata quindi il breakout in tempo reale per Carlo in questo caso sarebbe posticipato un po' più in basso direi che 20 può essere considerato un livello interessante mi metto su un compromesso sta poi a voi valutare il miglior compromesso possibile tenete presente sempre che c'è il quinto decimale in piattaforma sì direi che abbiamo fatto un bel lavoro direi che abbiamo fatto un bel lavoro se lo strumento ha 4 decimali bravo Giovanni togliete uno 0 dalla tolleranza però in questo caso vi consiglio sempre di fare degli esperimenti anche perché quando lo montate lo vedete subito avete visto con F7 ritornate su se avete messo un parametro sbagliato lo correggete appena arrivonti in piattaforma vi sposta la trend line di tolleranza chiaro per tutti vi piace questo giocattolino spero di sì tenete presente un'altra cosa abbiamo quindi in questo caso ho attivato l'expert a breakout effettivo di questa trend line statica neanche dinamica e soprattutto qualora il prezzo vada a fare il touch del super trend quindi vada a toccare il super trend man mano che si muove vendiamo ancora quindi raddoppiamo la posizione nel momento tecnicamente meno rischioso perché se io raddoppio una posizione quando sono lontano dal super trend corro un grande rischio se la raddoppio qui lo stop è strettissimo lo facciamo fare solo una volta non abbiamo permesso di mettere 150 touch perché chiaramente dopo un touch o due io rischio che l'ultimo touch sia un touch di inversione diventa molto elevato ho un'occhiata all'euro gbp dove il buon Pasquale consigliava la possibilità consigliava la possibilità di andare a coprire lo short sull'euro dollaro intanto si è chiusa la posizione sul New Zealand adesso lo andiamo a vedere in stock e se è aperto lo short sono le ore 16 sull'euro stock 50 andiamo short di euro stock 50 tranquilli è una short di profondità Vincenzo andiamo short di euro stock 50 quindi dal punto di vista operativo bisogna shortare l'euro stock 50 perché come vi ho fatto vedere poc'anzi graficamente è uno degli indici che ha la figura tecnica di impatto ribassista più interessante quello che ha appena rotto a ribasso il suo supporto dinamico lo vedete il target della posizione area 3168 3170 vediamo se riusciamo a raggiungerlo scusatemi mi sono fatto distrarre dagli ordini entrati in macchina questa è la situazione euro gbp in questo caso rimaniamo in dolce attesa d'altra parte volendo fare spread euro gbp la parte buona ipoteticamente l'euro lo abbiamo già comprato dovremmo vendere sterline andiamo a vedere se è il caso guardiamo prima l'euro yen che potenzialmente sta per rompere il rialzo interessante anche questa situazione un potenziale apprezzamento dell'euro anche nei confronti dello yen la manteniamo sotto osservazione già da ieri vogliamo una chiusura definitiva sopra questa resistenza se vado troppo veloce ditemelo io voglio farvi vedere tante cose a volte eccedo nella velocità quindi questa è la resistenza una chiusura al di sopra ci farà fare probabilmente altre valutazioni questa è l'euro od anche questo grafico lo stiamo aspettando si parlava ieri di un'ipotesi spredato allora quando dovesse andare a toccare la resistenza secondo noi ci arriverà un po' stanco quindi dovrebbe poi decelerare e infine arriviamo alla sterlina dollaro un grafico palesemente rotto al ribasso quindi a differenza di quanto accade sull'euro la sterlina ha direi subito in maniera molto corretta questa divergenza ribassista che avevamo individuato ha rotto a ribasso il suo canale rialzista di medio breve e come vedete sta accingendosi ad andare a testare area 1,70 mi piace l'idea di Pasquale ma vorrei spreddare quindi eventualmente coprire euro con una vendita di sterline allora quando Pasquale andassimo a toccare andremo scusate a toccare eventualmente questa trend line di resistenza per il momento no per ricordarvi la funzione touch ecco vedete ne approfitto così iniziamo a parlarne qui Supertrend si è messo a rialzo giusto ha cambiato colore proprio oggi vedete quando ha rischiato di stoppare c'era un touch quindi voi avreste avuto una prima posizione long scattata qui e adesso vi avrebbe aperto la seconda a questo livello mica male come entrata considerato che lo stop sarebbe stato potenzialmente lentissimo lentissimo scusatemi bassissimo un altro esempio qui Supertrend è entrato short qui qui vi ha fatto touch e qui vi avrebbe venduto un secondo lotto per un discreto periodo di tempo questo secondo lotto era in grande guadagno salvo poi chiaramente andare in stop come tutta la posizione quindi divergenza per il momento leggermente positiva anche su sterlina dollaro grazie Stefano non è la divergenza canonica che cerchiamo ma dal punto di vista della logica dei prezzi giustamente Stefano evidenzia che abbiamo una piccola una micro divergenza long è vero molto vicine tra di loro vedete abbiamo se trasliamo i minimi sull'asse verticale questo è il primo minimo questo è il secondo come vedete minimi decrescenti sull'asse dei prezzi crescente sul CCI tecnicamente questo è un segnale long di sterlina è il motivo per cui dicevo lasciamolo sfogare insieme all'euro dollaro magari continuano a salire sull'euro siamo long come sapete dopodiché valuteremo un eventuale posizionamento in hedging qualora dovessimo avere dei dubbi sulla possibilità per l'euro di proseguire a rialzo dopo sterlina dollaro c'è sterlina yen che si avvicina verso il suo touch a 174,50 rimaniamo ancora in osservazione sul grafico questo è il grafico invece più interessante di oggi probabilmente l'Australian dollar che ha trovato un primo supporto dinamico vi ricordo che l'Australian dollar è molto bullish è molto comprato ogni volta che c'è un minimo di debolezza scusatemi eccomi qui dal punto di vista pratico a testimonianza del fatto che il dollaro australiano è così detto è molto bullish vedete appena tocca dei supporti anche intermedi schizza subito via il rialzo teniamolo presente per le prossime sessioni perché qualora volessimo cercare chiaramente di entrare in posizione long sul gold l'alternativa potrebbe essere chiaramente anche farlo con il dollaro australiano Pasquale mi parla di un pullback ribassista probabilmente si riferisce a una figura più di lungo se ci dai riferimenti lo guardiamo volentieri Pasquale perché io su H4 vedo semplicemente un test di supporto dinamico se tiro la trendline di breve di breve la trendline di breve di resistenza questa perfetto sì siamo sotto resistenza in buona sostanza più che in pullback semplicemente un touch di resistenza quindi il dollaro australiano in questo momento appare palesemente ingabbiato in questo wedge operativo anche qui montiamo super trendline TLGO andiamo ragazzi forza e coraggio anche una volta un numero magico diverso trade now true go active true il che vuol dire che aspetta che si verifichi qualcosa sulla trendline 100 punti di tolleranza il touch per il momento non lo lavoriamo in questo caso lot size è 0.1 super trend multiplier 5.0 lot size è 0.1 diamo l'ok diventa tutto giallo ma non succede nulla in questo caso però dando la funzione go up alla trendline un po' divento eccola qua magenta quindi qualora il dollaro australiano dovesse breccare verso l'alto direi questa resistenza che Pasquale ha sapientemente individuato entreremo immediatamente in posizione lo chiaro ragazzi qualcuno ha bisogno di chiarimenti sui settaggi tutti bravissimi nessuno ha bisogno di chiarimenti vediamo un po' che cosa succede nelle prossime ore dopo il dollaro australiano un'occhiata New Zealand come vedete siamo stati stoppati vi ricordate eravamo entrati usando il CCI tutto sommato lo stop non è molto intelligente diciamo le cose come devono essere perché perché avendo usato il CCI ci sta stoppando su un pullback tecnicamente parlando questo ok siamo entrati in corsa però tecnicamente parlando questo non è un motivo chiaramente per entrare per uscire dalla posizione bravo Pasquale sono assolutamente d'accordo con te anzi sarebbe il momento per entrare in posizione tecnicamente parlando adesso visto che ho già sovraccaricato il portafoglio anche con altre operazioni la lasciamo scappare via ma a livello didattico questo è un esempio direi esemplare del fatto che si è sbagliato il tipo di expert advisor perché il CCI ovviamente si è riportato sopra la zero line e ha fatto il suo lavoro giustamente però ripeto questa tecnicamente lo sapete è un pullback ribassista quindi qui piuttosto che uscire dal mercato bisogna entrare a ribasso quindi condivido con Pasquale quanto appena detto o però come hai visto Pasquale è caricato diverse operazioni quindi probabilmente dobbiamo aspettare un attimino con pazienza l'evoluzione anche di questa se volessimo entrare short Pasquale con che settaggio si è entrato immagino veloce per rimanere in posizione come hai fatto ad entrare short o veloce o molto lento perché altrimenti non vedo come tu possa essere in posizione short con un super trend adesso sentiamo un po' qual è stata la tua soluzione la tua esperienza Guido mi chiede se i nuovi expert saranno dotati di spiegazione scritta assolutamente al volo quindi si è entrato in posizionamento fra virgolette manuale discrezionale purtroppo non lo faccio lo capisco perché tecnicamente parlando io qui non riesco ad utilizzare nessun expert per entrare potenzialmente in posizione salvo no salvo accelerare il super trend cosa che non mi va di fare quindi non fa niente non succede nulla un'occhiata agli osd card su cui aspettiamo sempre il completamento della figura di bassist in area 1.06 idem dicasi su Eurocard lo so che attira l'attenzione di molti l'operazione potenziale su Eurocard la vedete grande supportone però è di impatto immediato che non ha ancora completato facciamogli fare questo picco di volatilità arriva fin qua sotto e poi lo guardiamo tutti quanti insieme natural gas rotto a rialzo non ricordo chi me l'avesse chiesto ieri consigliavo di aspettare il breakout di questa resistenza di breve visto che la divergenza c'era tutta è successo domenico quindi non so se si è entrato in posizione l'intesa San Paolo è quasi arrivata sul supporto lo vediamo fa un attimo New Zealand Yen in H4 eccolo qui ha fatto un cosiddetto touch vedete ragazzi il primo segnale entrava qui questo è un touch quindi il rischio rendimento bassissimo e il mercato si è rimesso a salire per il momento è già tutto o meglio per il momento per la piattaforma è già tutto direi velocemente un'occhiata entriamo in corsa anche sul dollaro yen è già short con 6.0 quindi dal punto di vista pratico in questo caso nessun go active trend down true nessuna tolleranza entrata secca con il super trend con uno 0.10 multiplier del super trend 6.0 e andiamo short di dollaro yen eccolo qua siamo entrati quindi siamo in posizione anche sul dollaro yen ricordate in questo momento siamo short di dax siamo short di dax long di euro dollaro short di euro stock 50 short di dollaro yen quindi stiamo caricando la leva tutto nella direzione del mercato il che comporterà ovvie revisioni man mano che il tempo passa mi chiede una domanda Pasquale riesce a Pasquale mi chiede se riesco a dare un'occhiata agli USDCAD assolutamente sì eccolo qui Pasquale dal punto di vista daily secondo me manca ancora un box a ribasso scalo in H4 perché probabilmente hai visto qualcosa di interessante ha fatto una piccola zona di congestione ripeto questo breakout è stato molto bello di questo triangolo tra le altre cose immagino che tu abbia misurato l'ampiezza e credo che venga rispettata questa è stata l'ultima operazione che ho fatto nel campionato di trading a Milano l'ultima non ci ho creduto l'ho chiusa velocemente invece guardate perfetto avrei stravinto invece sono arrivato secondo questa è stata davvero l'ultima operazione che ho fatto perché non ho avuto il coraggio di vendere in diretta l'uscita dei dati con questa grande candela di accelerazione quindi me la ricordo molto bene sì target è perfetto Pasquale dal punto di vista della trading activity in questo momento però ti faccio notare in daily appunto che siamo ancora un po' distanti dal target effettivo ancora una figura a ribasso dopodiché possiamo valutare eventuali spunti operativi sul titolo se siete d'accordo bene per il momento sulla piattaforma è tutto andiamo a dare un'occhiata all'azionario connettiamoci al server in real time che da stamattina fa un po' le bizze parliamo della piattaforma Visual Trader che è offerta in convenzione a voi i nostri iscritti con un 25% di sconto se qualcuno interessa io sull'azionario la trovo abbastanza completa ed efficace sinceramente ci sono anche i settori reali su cui Anton Giulio e Maurizio stanno facendo uno studio molto approfondito allora andiamo un attimino a vedere la situazione guardate il primo grafico che vi propongo è sicuramente quello del FuzziNib come vedete siamo in una situazione tecnicamente importantissima perché? perché FuzziNib tecnicamente sta ritestando questa vecchia area di resistenza che ora funge da supporto quindi potenzialmente è un pullback rialzista come detto poc'anzi in apertura di webinar guardando l'altra piatta qui non guardiamo il future stiamo guardando proprio l'indice se rompe anche qui scivola l'indice l'indice verso area 20.700 100-150 punti in più scusate devo far ripartire la piattaforma problemi di collegamento 100-150 punti in più rispetto chiaramente a quello che sarebbe il prezzo del scusatemi 100-150 punti in più quando parliamo del prezzo del future e non chiaramente dell'indice che invece io vi sto facendo vedere quindi in questo caso state visualizzando l'andamento dell'indice e non del future arrivano i dati un po' di pazienza se riusciamo a collegarci altrimenti dovrò trovare un'alternativa c'è un problema con il server veramente splendida eccolo qua arrivano i dati bene come vi dicevo vedete dal punto di vista pratico che cosa è successo abbiamo breccato a rialzo qui e ora stiamo ritornando sui passi e per il momento la slavina risulta essersi un attimino arrestata Giovanni mi chiede cosa negherebbe la correzione in atto quali dei verdi del Fuzzi se riuscite a rialzo negherebbero lo scenario short di bassista attuale va Giovanni ti dico la verità per me il mercato è palesemente orientato ancora al ribasso ma lo dico lo ripeto da qualche ora barra giorni guardiamolo un attimino in H4 quindi cerchiamo dei riferimenti per te operativi più congeniali posso dire eccolo qua guardiamoci gli ultimi sei mesi voilà ecco il venir meno di questa ipotesi di bassista di cui abbiamo parlato Pocanzi guardando il grafico giornaliero secondo me è subordinato a un recupero pieno di area 22.000 finché rimaniamo sotto 22.000 di recupero non se ne parla fra le altre cose come potete notare da questo grafico di breve innanzitutto siamo scesi su una perfetta divergenza di bassista seconda cosa abbiamo un gap da chiudere in area 27.50 e se ricordate bene 27.50 è il livello di supporto di cui vi ho parlato Pocanzi guardando il grafico giornaliero quindi l'idea mia è che il mercato non abbia ancora terminato la fase correttiva e che vada da qui ai prossimi giorni a cercare questo supporto dinamico ok che neanche a farla apposta col passare delle ore e del tempo andrà a coincidere andrà a coincidere chiaramente con il punto gap up rimasto aperto dopo il sorprendente risultato in termini pratici delle elezioni europee eccola qua questa è la situazione attuale ed è quella con cui dobbiamo confrontarci Stefano mi dice che è una divergenza positiva sull'Italia ma appena accennata Stefano le divergenze quelle che cerchiamo quelle in cui di cui ci fidiamo sono queste vedi questa qui che ha fatto fare il ribasso guarda quest'altra che carina quindi due picchi abbastanza distanti fra di loro eccoli qua invece qui salgono fra le altre cose il nostro ufficio di IT sta terminando il nostro indicatore app divergenza indicator quindi fra un po' sulle MT4 le divergenze ve le segniamo direttamente noi se non vi dispiace e quindi vi diamo una mano a identificare quelli che secondo noi sono i canoni più puri della divergenza si è molto piccola ma è così piccola ecco il concetto di Stefano dice si c'è la divergenza comunque è molto piccola vero è proprio quello il concetto è troppo piccola la vedono in troppo poche persone ci lavorano troppo poche persone a noi interessa qualcosa che vedano tutti e su cui tradino poi tutti diamo un'occhiata al portafoglio residuale oggi abbiamo chiuso in take profit anche popolare di Milano e Buzzi abbiamo ancora a rialzo Moncler Atlantia a ribasso generali a ribasso vediamoli tutti e tre ne approfitto per dargli un'occhiata con voi questa è Atlantia su cui siamo short da dove? vediamo il nostro short è partito in area 20.88 quindi siamo lì oggi internet lentissima ecco qua siamo partiti short in area 20.88 allora quando appunto vedete questo grande box giallo questa grande ellisse gialla si avvenne la perforazione a ribasso l'aspettiamo in area 19.50 direi di mantenere un posizionamento short abbiamo anche generali in portafoglio eccola qua anche qui siamo in short position sta accelerando bene a ribasso l'aspettiamo in area 15.80 15.70 direi che anche su generali è opportuno mantenere posizioni short visto che anche in questo caso indicazioni particolari da CCI e di Similibus non emergono l'unico titolo che abbiamo a rialzo invece è Moncler è una bella gratificazione perché comunque zitta zitta ma non perde il mercato invece sta scivolando a ribasso dello 0.8 ecco la Moncler vi dicevo ieri che il titolo è un buy per diversi motivi in primis ha staccato il dividendo e come vedete ha già recuperato tutto il dividendo seconda cosa una bella divergenza rialzista se non bastasse abbiamo anche perforato proprio i prezzi attuali la dinamica discendente per me Moncler è un buy long questa almeno è la mia idea dove può arrivare qui poi viene scende in campo Fibonacci e quindi andremo a valutare poi i ritracciamenti eventuali di Fibonacci ok ma dal punto di vista pratico io mi aspetto un rimbalzo se c'è abbastanza poderoso stop molto stretto sotto 11,70 quindi si rischia poco potenziale buy long abbastanza interessante andiamo a vedere gli altri titoli principali del listino magari vediamo i migliori ecco qui Popolare di Milano l'abbiamo chiusa oggi perché l'abbiamo chiusa ieri potevamo chiuderla con un più 6 oggi con un modesto più 4,50 se non ricordo male perché perché quando Giovanni mi ha detto dove vengono meno secondo lei i presupposti per cui Milano possa continuare a scendere o meno ecco lo stesso ragionamento l'abbiamo fatto su Popolare di Milano appena abbiamo visto che ha breccato al rialzo la resistenza mediana peraltro il meraviglio di Stefano che non me l'ha ancora evidenziato in presenza di una piccola divergenza rialzista ovviamente era una battuta Stefano di una piccola divergenza rialzista abbiamo fatto uno più uno abbiamo portato a casa direi comunque un ottimo utile al momento attuale non mi posizionerei troppo fiduciosamente al rialzo ma neanche rischierei di andare chiaramente a scioltare sul titolo Popolare di Milano comunque è la migliore del listino e ripeto abbiamo fatto bene probabilmente a uscire seguite in classifica come vedete da Montclair quindi importante che l'unico titolo long che abbiamo in portafoglio si risulti tra i più positivi della giornata poi abbiamo Univorsai film meccanica telecom Italia ma niente di particolarmente significativo più significativo il movimento dei ripassi in primis Monte dei Paschi di Siena una tragedia greca guardate un po' si è riportata in area 1,51 pazzesco scandaloso ma lo sappiamo già non mi piace dirlo però non so nonostante questa mega volatilità non so se ci avete fatto caso che cosa aveva disegnato Monte dei Paschi di Siena quindi pur nella grande volatilità aveva disegnato una perfetta divergenza di bassista quindi non sorge chiaramente non è non appare inatteso quello che sta succedendo almeno non secondo la nostra tecnica mi chiedeva mi chiedeva Fabrizio un target di Popolare di Milano a Rialzo ma come ti dicevo io fino a poche ore fa Fabrizio ero short sul titolo se il titolo ricicla nuovamente a Rialzo vuol dire che va sicuramente a creare nuovi massimi relativi se è doveroso e quindi potresti ritrovartelo in tempi non lunghissimi in area 77 0.77 al momento rimango moderatamente ribassista e quindi secondo me la forza eventualmente è da vendere però come ogni buon graficista sono disposto a cambiare idea allo stato attuale sono fuori dal titolo il che denota che non sono come dire via a fissarmi su un'operazione portata a casa via anche se speravo facesse 0.60 dove avevo piazzato il mio target peccato ma dal punto di vista pratico non me la sento in generale forse di come le piazza a fare vi dicevo anche di Fiat Fiat sta facendo una situazione molto interessante voglio farvi vedere di che cosa parliamo perché Fiat ragazzi è uscita da un wedge a rialzo e ora ci sta ritornando sotto quando i titoli fanno così sono potenzialmente dei grandi short perché è una negazione di una tendenza a rialzo sto aspettando questo è il grafico giornaliero non so se ci avete fatto caso sono andato su un time frame più lungo eccolo qua io sto aspettando insieme all'ufficio studi che Fiat chiuda sopra questo supporto dinamico lo dico anche al mio amico Fabio che è rialzista su Fiat Fabio se Fiat chiude sotto 740 va shortata perché a quel punto l'ipotesi che il mercato azionario prosegue a ribasso e Fiat venga a chiudere il gap mi sembra abbastanza veritiera quindi io sto aspettando Fiat per entrare short ve lo dico con grande sincerità in H4 non mi è piaciuto per niente il breakout di ieri quando tutto scendeva quindi ha breccato a rialzo in perfetta controtendenza e poi oggi quando il mercato viene giù segue a ruota quindi non mi è piaciuta questa situazione sto aspettando una chiusura sotto 7,45 se mi chiude sotto 7,45 io vado short Fabio mi dice che si è già protetto con un edging bene così sa che ti voglio bene e quindi perfetto in questo modo Fiat quindi mi interessa ma in un'ottica palesemente ribassista andiamo a vedere ancora le top 10 di piazza affari quindi non possiamo non guardare anche scusatemi scusatemi dove è eccola qui Enel dovrò imparare a non far scattare tutta questa roba Enel è inserita palesemente in un contesto rialzista di medio e lungo termine uno dei titoli più belli di piazza affari negli ultimi mesi credo possa continuare a correggere verso area 4.15 senza che questo vada come dire ad innescare mettiamo una bella parallela guardate come regolare il titolo quindi un grande canale rialzista non ci sono divergenze o situazioni tecniche particolari che ci facciano da warning scivola verso area 4.15 poi lì dovrebbero ritornare direi prepotenti compratori mi dice Fabio che lo short edging su Fiat gli è stato consigliato da Anton Giulio ma che Anton Giulio è molto bravo non peraltro ha avuto un ottimo maestro a parte gli scherzi gli ha dato sicuramente un buon consiglio almeno io lo condivido in pieno dopo Enel darei un'occhiata ad Eni attenzione ad Eni ricordo da diversi giorni che Eni ha un peso specifico nell'indice da campioni cioè il titolo più pesante nel nostro listino negli ultimi tempi se vogliamo Eni ha davvero allontanato lo spettro di grandi ribassi come vedete adesso sta iniziando a decelerare ha una evidente divergenza ribassista quindi se avessi Eni in portafoglio lo attiverei in barca non posso shortarlo ma se mi molla 19.50 gliene vendo quante ne vogliono quindi con un Eni sotto 19.50 vendo Eni a mani basse e dal punto di vista pratico vado anche a guardare il petrolio perché a quel punto non sarei sorpreso nel vedere un contestuale abbattimento delle quotazioni quindi sotto 19.50 short Eni allo stato attuale già le liquide race le avesse in posizione long Fiat l'abbiamo appena vista Finmeccanica non mi sembrava particolarmente interessante ma abbiamo un po' di tempo quindi un'occhiata veloce gliela diamo credo sempre che Finmeccanica debba completare il suo disegno tecnico di rimbalzo in area 7.25 è il motivo per cui sono prudente su questa grande divergenza innanzitutto non è pura perché ha rotto la zero line però questo box rialzista che rimane aperto su Finmeccanica non mi convince quindi preferisco girare a largo come si suol dire su generali ci siamo già espressi siamo short su GTEC consiglio di stare molto attenti perché sta tentando un disperato recupero ma vedete la tendenza di fondo del titolo è davvero pazzesca quanto sia sbilanciata chiaramente a ribasso quindi finché GTEC non torna sopra 19.50 di comprare o di guardare il titolo non se ne parla si sta disegnando divergenza long però è una divergenza che probabilmente la porta ad impattare contro resistenza e poi a respingerla nuovamente in Tesa San Paolo chiusa ieri direi che abbiamo chiuso abbastanza bene quasi 9% di guadagno anche qui target è sfiorato abbiamo leggermente anticipato la chiusura il titolo diventa molto ribassista se chiaramente va a rompere i minimi della mattinata a rialzo il ritorno di potenziale positività molto semplice banale con chiusura potenziale sopra i 2.40 allora vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' ci sono un po' di domande scusatemi a Fabrizio abbiamo detto il target tanto in giulio l'abbiamo visto Lorenzo ciao indice ITA 40 in H1 divergenza di alzista su CCI è tradabile in ottica di pullback verso area 21.8 tu mi parli sull'ITA 40 do un po' di spazio alle vostre domande così è più interattivo in H1 se non ricordo male sì eccolo qua questo è l'orario dell'ITA 40 un po' di pazienza che scarico il database mi parli sull'H1 in ITA 40 di una divergenza Lorenzo di una divergenza rialzista sul commodity l'index che si starebbe creando che si starebbe creando e tu dici potrei approfittare di questa divergenza per un rimbalzo verso l'area 21.8 ma a me non sembra pulitissima in questo momento era più se vogliamo proprio fare i fighi come si suol dire era più pulita questa di divergenza poi il mercato è scivolato ancora in giù e ti sta creando un nuovo punto di contatto è vero che rimaniamo sotto la zero line però appunto questa è una divergenza informazione non è già definita a questo punto ti consiglio di monitorarla di tirare giù una trend line di questo tipo e in caso di breakout di area 21.550 21.6 con presenza ancora di divergenza l'operazione la andrei a fare Guido ci dice sono rimasto long di dollaro iene devo chiudere e contabilizzare la perdita ed eventualmente invertire l'operazione Guido a giudicare dal breakout di dollaro iene che abbiamo commentato prima onestamente dispiace da dirlo ma sembra che sia entrato in risk off quindi assolutamente sì io andrei a fare stop and reverse ripeto il target ipotetico di questa operazione in area 100.80 101 e quindi non so da che prezzo di carico sei long sul dollaro iene ma dovresti avere abbastanza spazio a ribasso per recuperare guardando il grafico quindi senza considerare la posizione economica la posizione economica di cui mi parli in questo momento non rimarrei long sul dollaro iene questo me lo sento assolutamente di dirte grazie Guido a te Lorenzo mi chiede della situazione tecnica di Banca Ubi bene vi vedo finalmente che interagite un po' non state lì solo ad ascoltare le mie chiacchiere vediamo Banca Ubi ovviamente almeno in H4 Lorenzo io non riesco a guardare i grafici più veloci mi devi scusare quindi Banca Ubi in H4 eccola qui tecnicamente penso posso andare a fare 7.23 7.24 lo vedi questa resistenza dinamica è evidente che se non ce la fa e se rompe il ribasso nelle prossime ore questa diventa uno short abbastanza conclamato anche perché ripeto ricordatevi che Milano è molto ma molto legato ai bancari non so se stamattina avete seguito l'approfondimento di Anton Giulio e Maurizio ma l'indice Fuzzi bancari lo vedete è davvero messo molto male non ha punti di contatto apparentemente vicini quindi se vedete Piazza Affari scendere vendete ancora bancari e non sbagliate allora 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 Lorenzo Banca Profilo per Giovanni vediamo un po' Banca Giorgio per che cosa grazie Giorgione mi dici grazie ma non capisco per cosa per la domanda per la domanda mi hai fatto una domanda ti ho risposto ah in versione di tendenza standard pure arrivo Giorgione sì ci arrivo subito scusami sto cercando Banca Profilo per il nostro amico eccola qua BCA Profilo basta che si decidono a dirmi come dobbiamo vederlo aggiungi in tabellone base aggiungi ora ce l'ho qui voilà meno 2,28 oggi Banca Profilo dopodiché tocca a Giorgio sto guardando tutti in ordine cronologico giuro eh non sto favorendo nessuno allora questo è Banca Profilo sempre in H4 anche qui la discesa è abbastanza chiaramente accentuata soprattutto nell'ultimo periodo il titolo però si è comportato abbastanza bene mi sembra negli ultimi mesi ha comunque tirato molto bene sta arrivando in prossimità di un precedente minimo relativo che su H4 non mi dice assolutamente nulla per ora il supertendolo misura short e rimarrei short vediamolo in daily anche se abbiamo delle indicazioni da riferimenti che in H4 magari abbiamo ignorato colpevolmente vediamo un po' se c'è qualcosa in daily ecco mi va di tracciare questo supporto dinamico vedere se lo abbiamo toccato 1 più 1 fa 2 pum metà niente allora direi che può essere interessante l'imminente direi test di quest'area di supporto statico perché andrà a coincidere probabilmente con questa trendline quindi l'area probabilmente 32 vediamo quant'è l'area 34 potrebbe essere Giovanni tecnicamente un'area di buy in ogni caso il titolo ritorna forte solo in caso di superamento di questa resistenza che come sai transita in area 0.40 ok Giorgio mi chiede di dare un'occhiata lo standard in pool 500 lo faccio volentieri eccolo qua mi dice a quale livello possiamo supporre un'inversione di tendenza sull'SP500 lo vedi Giorgio è un livello tracciato veramente di maniera molto chiara e questo supporto dinamico in questo caso parliamo del future Giorgio quindi area 1930 e la macina dello standard in pool 500 sotto 1930 si apre la strada del ribasso non prima e infatti come vedi anche adesso sta leggermente rimbalzicchiando ok quindi io prima di 1930 anche per chi lavora eventualmente sulle opzioni non andrei short con troppa convinzione sullo standard in pool 500 vediamo un po' situazione tecnica di Ubi la guida ho risposto per quanto riguarda Lorenzo che mi chiedeva appunto su Ubi ho già commentato il mio pensiero Nicoletta mi chiede di vedere il suo amato WTI petrolio eccolo qui Nicoletta sempre 105 come supporto statico da lì in poi si stanno chiaramente sviluppando diversi rimbalzi in verità sempre meno convinti mi sarei aspettato dopo il primo rimbalzo il ritorno indietro il secondo un po' più basso del primo adesso andiamo quasi probabilmente a rifare 105 e a questo punto però bisogna guardare anche il mercato azionario perché il petrolio ha una forte correlazione quindi il mercato azionario sta un po' sticchiolando niente di preoccupante ma sicuramente segnali non di particolare forza quindi in quest'ottica anche la mia idea che il petrolio possa andare a 110 chiaramente diventa sempre più vulnerabile in quanto credo che prima o poi dovrà fare i conti col contesto circostante allora grazie a te Nicoletta mi chiede Andrea che risaluto sempre il mio amico torinese Andrea mi chiede di dare un'occhiata su Mediaset volentieri da un po' che non la guardo guardiamo prima il grafico giornaliero che è quello che sta vedendo adesso Andrea quindi sul giornaliero direi abbastanza lampante che ci sia una base supportiva ancora lontana che possiamo stimare in zona 3.25 in area 3.25 Mediaset incontra un bel supporto ideme si cadica se a livello di resistenza il segnale di via libera long sopra area 3.64 questo dice molto brevemente la dinamica giornaliera scaliamo in H4 vediamo se abbiamo indicazioni particolari da Mediaset specchiamo lo scarico dell'archivio storico eccolo qua assolutamente noti confermo quanto ho appena detto sta facendo un piccolo doppio minimo però io se non li vedo mettere il nasino fuori da questo livello quindi questa prima resistenza il che potrebbe poi portare all'allungimento di questo secondo target onestamente rimarei un po' alla finestra chiaro mi sembra che possa ancora scivolare verso il basso ciao Andrea Andrea mi chiedeva anche di dare un'occhiata se non sbaglio a un altro titolo Espresso adesso bisogna questo lo chiamerà allora vediamo 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 Midcap italiane dovrebbe essere il gruppo editoriale Espresso Es il simbolo è Es Es eccolo qua grande grafico in tabellone aggiungi eccolo qua perfetto grazie Andrea Es eccolo qui beh devo dire anche che la cosa che mi piace della piattaforma che chiaramente qui non vedete CFD come prezzi vedete il mercato reale credetemi nel fare analisi tecnica è un'altra storia è un'altra storia anche rispetto alla ProRealTime che ho usato fino a pochi giorni fa perché chiaramente sapete era una ProRealTime collegata ai prezzi di G e quindi anche in quel caso si lavoravano si lavoravano situazioni di terzo no? quindi comunque prezzi di CFD io preferisco sempre vedere se semi è possibile i prezzi del mercato reale vi faccio passare il Parkinson alla mano forse eccolo qua l'Espresso accontentiamo oh che bel doppio minimo Andrea grazie per avercelo segnalato molto bello un doppio minimo molto preciso su Dinamica H4 su gruppo editoriale l'Espresso peraltro ricordatevi il concetto di logica divergenziale non di divergenza in quanto tale pura però vedete qui i prezzi sono leggermente leggermente decrescenti direi quasi orizzontali comunque invece il CCI tende a girare verso l'alto il che mi porta a pensare che al breakout di questa resistenza spesso fosse da comprare purtroppo come vedi Andrea per il momento non sta accelerando più di tanto ma tecnicamente parlando non mi dispiacerebbe tentare un buy long che potrebbe avere come obiettivo abbastanza veloce l'area 1.62 1.63 quindi questa almeno è l'idea che mi viene osservando questo grafico mi sarei aspettato una maggiore direzionalità dopo il breakout di questa resistenza di breve che ho tracciato che avrebbe dovuto attirare diciamo così l'appetito di molti operatori c'è da dire che se zoomiamo un attimo ha fatto anche dei pullback perché è vero che ha rotto è ritornato sui suoi passi ma ha rispettato la vecchia area di resistenza e adesso giustamente il mercato non è bellissimo sta lateralizzando se riesce a trovare interesse schizza su quindi lo stop mi pare stretto e che vuol dire adeguato perché tecnicamente se misurate un rapporto rischio rendimento in questo caso abbiamo uno stop di questa entità è un potenziale box di gain se è vero il mio target di questa quindi l'operazione dal punto di vista esclusivamente tecnico ci può stare bene signori anche per oggi è tutto non mi nascondo che il mercato si fa davvero molto interessante saranno giorni quelli che vediamo abbastanza impegnativi costanza edging su fiat anche tu mi raccomando non rischiamo di tenere posizioni dal lato sbagliato del mercato Roberto dice ma non somiglia a dollaro yen forse sono stanco in che senso Roberto parlavi della situazione grafica sì probabilmente sì sono d'accordo con te ci sta molto simile dollaro yen vedete per ora deve fare il passo avanti che deve fare violare questo doppio minimo il bond è davvero molto forte a rialzo il dax modestamente pian pianino inizia a scivolare ci interessa che venga a 9,6 e farci chiudere bene questo primo semestre del 2014 vogliamo anche dare fuori delle belle statistiche l'euro dollaro sta leggermente decelerando ma è ancora ben saldo sopra i nostri presti di ingresso vita 40 in caduta libera 21,4 minimi di giornata altro che ragazzi si continua a scivolare in giù lo standard in pool 500 è molto neutrale come posizionamento sull'euro stop 50 vi ricordo che siamo entrati short e per il momento sembra una buona intuizione quanto al gold aspetta segnali concreti e confermati dall'azionario sembra pronto di nuovo in rampa di lancio insieme al cogino argento su cui come vedete abbiamo montato un TLGO con una tolleranza di 100 pips 10 punti per entrare eventualmente sul breakout dei massimi relativi di periodo petrolio in fase di lateralizzazione anche lui aspetta segnali dall'azionario per oggi pomeriggio è davvero tutto vi ricordo che domani mattina saremo con voi alle 9 e mezza per lo speciale azionario Italia vi ricordo più tardi che abbiamo la quarta puntata per chi si è seguito dell'MT Academy con XTB e nient'altro dal punto di vista pratico spero che abbiate grandi soddisfazioni dei mercati una domanda last minute da Fabio che dice sono buy sul boom e il take profit lo metto sul massimo relativo direi anche più in alto Fabio se funziona il tuo take profit è quassù in area 148 l'ho detto in apertura di webinar tu ultimamente sei ritardatario ma dal punto di vista pratico se la situazione risk off che si sta innescando dovesse funzionare permetti far 148 questa almeno è la mia idea quindi proverei a tirargli il collo fino a 148 eh già è vero Giorgio il signorino lì è sempre in barca a divertirsi e noi qui a lavorare siamo tutti amici grazie a tutti buon pomeriggio e buona serata in arrivo lì è sempre in barca lì è sempre in barca